Grazie, finite. Molto bene, contento di vederla a Bologna e di accoglierla. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 fondamentale della nostra società, una formazione che sia libera, che non sia faziosa, ma basata sulla concretezza dei dati, questo è importante, non sulla fazione dei dati, questo è quello che certamente lui ha detto, tant'è che ci sono dei recenti lavori di fisica, il cui titolo che mi ha colpito molto è Majoranas Return, cioè c'è un ritorno di Majorana, non so se qua questa bella ragazza è d'accordo o meno, comunque, cioè significa che ho 70-80 anni di distanza, dopo tutto ha detto qualcosa di buono, allora cerchiamo tutti noi di lasciare una traccia positiva. L'accusa della Procura Distrettuale di Catania è relativa ai reati di sfruttamento sessuale di minori, adescamento, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, divulgazione e detenzione di pornografia minorie. Le ricerche investigative sono partite dalla denuncia della madre di una minorenne che aveva scoperto sul cellulare della figlia delle lunghe conversazioni in chat con un adulto e di avere, inviato all'uomo video e immagini autoritratti. Le indagini, compiute dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania hanno reso palese che l'indagato era riuscito a manipolare la minorenne costringendola a condividere prestazioni sessuali online. La polizia postale nel momento in cui è riuscita a carpire l'identità dell'uomo, ha ottenuto, dalla procura distrettuale di Catania, l'emissione di un decreto di perquisizione, dove è stato rinvenuto un gran quantitativo di materiale fatto di immagini e video con minorenni, che ha condotto il 31enne all'arresto e convalidato in arresti domiciliari. Il reparto commerciale della polizia locale ha effettuato numerosi controlli, nel centro storico, dai quali sono derivati dieci provvedimenti di sequestro di merce varia e chincaglieria, del settore non alimentare. In esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal sindaco Enrico Trantino e dall'assessore Alessandro Porto, all'esito dei controlli su 17 ambulanti abusivi di prodotti alimentari e ortofrutta, sono scaturiti 34 verbali amministrativi, per un importo totale di 28.901 euro, per mancanza di autorizzazione, carenza dei requisiti professionali e occupazione di suolo pubblico senza titolo, con il conseguente sequestro della merce che è stata devoluta in beneficenza a enti caritatevoli. Particolare attenzione è stata posta al controllo delle attività dei chioschi, per contrastare il diffuso fenomeno dell'occupazione di suolo pubblico mediante apposizione di tavoli e sedie.